lei che appare come unimi unirimi nspa al microfono chiuso anche adesso che ha aperto no penso proprio che abbia dei problemi di audio anche con del microfono vi chiedo solo se vedete le slide sì sì perfetto allora insomma intanto inizio e ancora chiedo scusa per il ritardo e insomma inizio un attimo a presentarmi mi chiamo Nicola Bertolini lavoro insomma per il cluster mac che è il cluster della insomma l'associazione per la meccatronica motoristica della regione Emilia Romagna e con il quale appunto partecipiamo abbiamo partecipato al progetto Amulet innanzitutto insomma parto dicendo ringraziando insomma poi la disponibilità di George Annalisa e tutti insomma i tecnopoli della Romagna che hanno dato hanno aiutato e collaborato e hanno organizzato questo incontro per riuscire a spiegarvi un po' com'è il progetto Amulet e qual è l'opportunità che l'opportunità che stiamo proponendo e parto dicendo veramente due parole di rito insomma su chi è il cluster mac giusto per presentarci è appunto come dicevo un'associazione quindi abbiamo proprio dei membri associati come potete vedere siamo intorno ai 130 140 e la composizione la vedete appunto nella slide quindi la maggior parte insomma sono piccole e medie imprese ma l'idea del cluster per sé è quella di andare a coinvolgere tutti gli attori ovviamente nell'ambito del settore manifatturiero e soprattutto per quanto riguarda le attività di ricerca e innovazione e cosa facciamo tra le varie cose facciamo insomma qua vedete un paio di foto di eventi di networking e dell'assemblea generale in basso comunque l'idea di riuscire a fare a mettere in comune e fare rete tra tutti i diversi attori sempre con l'obiettivo insomma di inalzare un po' il livello di competitività come siamo strutturati veramente due parole come potete vedere visto che siamo un cluster che ha tante diciamo diversi ambiti tematici e ci siamo strutturati con delle value chain cosiddette value chain cioè otto tavole di lavoro e come potete vedere che vanno a essere tavoli tematici quindi si va da appunto MOVES che è appunto il tavolo di lavoro dedicato un po' al veicolo all'automotive la parte diciamo più di connessione sostenibile fino a fluid power che è appunto tutto il settore per la componentistica idraulica per ad esempio la movimentazione terra comunque giusto per dare insomma un attimo un volto al cluster e invece oggi di cosa parliamo cerco di presentarvi un po' quella che è il progetto AMOLED e qual è appunto l'open call quindi dicevo l'opportunità per andare a ricevere un po' di finanziamenti per lo sviluppo la prendo da larga solo adesso spiegandovi come è nato il progetto AMOLED e qual è un po' l'idea dietro tutto e AMOLED è un progetto che nasce sempre in ambito di alleggerimento ufficialmente all'alleggerimento dei componenti e con l'idea di andare appunto a ridurre le emissioni di CO2 e attraverso insomma il supporto alle piccole e medie imprese la cosa che mi premeva in questa slide farvi notare è che per ogni volta che incontrerete insomma AMOLED se sarete interessati in futuro e c'è sempre questa categorizzazione tra tre tipologie di materiale e quattro settori dedicati di applicazione quindi troverete sempre tre tipologie di materiale compositi a base polimerica compositi a matrice ceramica e le leghe di metallo leggere diciamo incastrati come si dice fatti a matrice con il building a spazio aeronautico energia e automotive quindi giusto due in realtà un secondo per far vedere giusto qual è insomma è un progetto europeo per l'appunto cosiddetto cascade funding quindi essendo un progetto europeo abbiamo dei partner europei e in questo in questo progetto siamo 13 insomma giusto per far vedere lì la distribuzione geografica e cosa possiamo offrire insomma quali sono un po' i servizi a disposizione delle piccole e medie imprese all'interno di AMOLED ci sono due principali famiglie da una parte di supporto finanziario come potete vedere quindi attraverso le competizioni tematiche e le open call di cui parleremo un po' oggi oltre a questo in realtà aperto anche a tutte le piccole e medie imprese che sono interessate c'è tutta la parte di supporto non finanziario che si distingue in due filoni di attività uno è il supporto qualche amato technical training supporto diciamo più formativo di fruizione di materiali formativi webinar su tutti ma anche insomma white paper e altre documentazioni e dall'altra parte invece il business to business coaching chiamato business to business in realtà anche su tematiche tecniche comunque l'idea che una piccola media impresa che opera in quei quattro settori o con quei quattro materiali può avere una persona di riferimento insomma che può dare un po un supporto nello sviluppo comunque la prendo cioè non la prendo larga parto diciamo con la parte più più corposa di oggi che è la parte di supporto finanziario e poi eventualmente insomma spendiamo due parole in più sul supporto non finanziario e le competizioni le challenge competition giusto uno sguardo al passato perché questa è la seconda open call del progetto amulet quindi la prima è stata chiusa l'anno scorso e vedete i risultati in slide e sono state 59 application abbiamo ricevuto da 21 paesi per un totale di 119 imprese che sono state coinvolte perché questo insomma differenza tra application e piccole e medie imprese perché in amulet l'impresa non può andare ad applicare in maniera individuale da sola al finanziamento ma lo deve farlo sempre in mini consorzio di due o tre in piccole e medie imprese questo è proprio una condizione sine qua non per partecipare e dall'altra parte insomma un po' vanto ce ne portiamo vanto perché vedete l'origine geografica delle piccole e medie imprese che hanno partecipato insomma l'italia ha avuto il primo premio sia tra partecipazione sia tra premiati ci tengo sempre a dirlo perché partecipare basta bello insomma anche passare e come è strutturato come è strutturato tutto il progetto amulet gira tutto intorno a queste cosiddette industrial challenge sono delle sfide industriali e che in quanto progetto sento solo dell'eco non so se ha scusi bruno da del tu perdoni ti disattivo l'audio solo perché mi sento un po' in cuffia non sono disattivato ah scusami no no ma figurati tanto è solo che mi sentivo un po' in cuffia e scusate le industrial challenge stavo dicendo sono delle sfide industriali che sono delle sfide che abbiamo raccolto noi quanto staff di amulet da grandi imprese comunque l'idea è che una grande impresa abbia comunicato un suo bisogno una soluzione innovativa che sta cercando e appunto attraverso amulet ovviamente ci tengo a dirlo che l'origine sono grandi imprese perché non sono state invenzioni insomma dello staff di amulet ovviamente hanno sempre diciamo qualcuno alle spalle che è stato il fautore e quindi come sono strutturate per la seconda open call potete vedere le sfide sono state sono 36 sono pubblicate e come vi dicevo prima sono sempre categorizzate per materiale e settore quindi come possiamo vedere insomma che i polimeri fibro rinforzati su tutti la fibra di carbonio potete vedere la fa un po' da padrone e soprattutto sui settori aero spazio e nautica energia automotive e però ovviamente diciamo questo questo giro perché nella prima open call alcuni ambiti avevano non avevano nessuna sfida c'è una copertura totale per un totale di 36 quindi sfide vi provo andare molto veloce e così insomma volevo farvi vedere un po tutte le slide poi ovviamente se avete dubbi e domande fermatevi in qualsiasi momento e quindi prova a darvi giusto due tre elementi di come del progetto di come si partecipa come vi dicevo all'inizio e il diciamo la condizione fondamentale è il fatto che non si partecipa mai in forma singola ma sempre in mani in forma aggregata quindi con un mini consorzio di due o tre piccole e medie imprese il principale beneficio l'obiettivo è quello di questo open call è quello di andare a raggiungere un finanziamento fino a 120 mila euro per progetto con un cap massimo fissato dalla commissione europea che è di 60 mila euro per piccola e media impresa quindi nel caso ci siano due imprese che si mettono d'accordo è 60 e 60 nel caso ovviamente siano in tre non bisogna per forza rispettare insomma l'equa distribuzione 40 40 40 ma si può sempre giocare con le proporzioni sempre rispettando un massimo di 60 mila euro per impresa e a fronte di tutti i partecipanti saranno poi sette i team le soluzioni che arrivano alla finale insomma a completare tutto il programma che sono tre diversi stage che hanno durata di 15 mesi poi li vediamo e come start in tl quindi come tl iniziale non è in questo caso può un più un'indicazione non è una insomma un dato obbligatorio si pensa di fare riferimento a un tl di 4 barra 5 e l'idea appunto di arrivare fino a tl 7 come ripeto non è diciamo una un vincolo obbligatorio ma sono un po un'indicazione e ultimo ma giusto per ripeterlo come vi dicevo le applicazioni devono sempre andare ad affrontare a portare una soluzione a una di quelle sfide che abbiamo visto prima la lista di cui abbiamo visto prima la lista e lo ripeto perché nella prima open call in realtà abbiamo ricevuto una una proposta insomma una soluzione un progetto che era era molto bello però parlava di tutt'altro e insomma ovviamente è stata squalificata sin dall'inizio però appunto giusto per per evitare di far perdere tempo eventualmente e metterlo molto in chiaro vi provo a descrivere un po qual è il percorso della PMI che attraversa attraverso attraverso insomma amulete le varie fasi di selezione e dopo ne vediamo tutte invece le parti di valutazione proprio come come avvengono allora come vi dicevo la seconda open call è stata aperta il 10 gennaio e chiuderà il 22 marzo quindi tra un mese e adesso al momento siamo in fase di application per l'appunto e quindi ci sono le 36 e sfide e ci saranno ehm vabbè scusate ripeto 22 marzo della scadenza vi parlo dopo dei tre matchmaking event ma lo faccio tra un secondo così ho due slide per approfondire e eh al termine di questa fase di applico di application quindi di candidatura saranno eh a fronte di tutti i candidati che manderanno insomma la propria proposta 36 soluzioni verranno poi invitate a questo jury day jury day insomma un po' una presentazione eh ad alla al vivo e da questi 36 poi si passa a 25 vediamo come quindi 25 sono poi i team le soluzioni che approdano lo stage 1 lo stage 1 è eh cosiddetto feasibility study quindi uno studio di fattibilità l'obiettivo ovviamente è la produzione di un documento che sia proprio lo studio di fattibilità della della soluzione proposta e eh a durata di quattro mesi c'è una prima tranche di finanziamento come potete vedere quindi si va a ricevere eh 23 mila euro finiti questi quattro mesi c'è poi una ulteriore fase di valutazione e selezione per cui l'imbuto da 25 soluzioni si arriva a sette soluzioni sette consorzi insomma che arrivano alla stage 2 che come vedete è quello più corposo perché appunto la dimostrazione bisogna andare a produrre il dimostratore insomma della del progetto e si vanno a ricevere 80 mila euro eh di finanziamento e ha una durata di nove mesi alla fine al termine di questa fase eh si passa poi al follow up support for innovation come ci si passa quello vediamo non c'è più una fase di eh selezione infatti vedete che da sette eh pre sette soluzioni si rimane sette diciamo che a fronte di aver rispettato tutti i deliverable documenti insomma aver fatti i compiti a casa diciamo si passa automaticamente a quest'ultima fase che è più dedicata insomma invece alla fase di emissione sul mercato e post produzione del 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 prototipo e come potete vedere ha una fase di due mesi con una un finanziamento di di 17 mila euro eh una cosa che eh non c'è scritta nella slide tengo a dire nel momento in cui si va a proporre una candidatura un progetto quindi in questa fase di application non si conosce ufficialmente chi è il challenge giver challenge giver è l'impresa che ha lanciato la sfida e perché rimane anonima fino al momento in cui non si arriva allo stage uno dallo stage uno quindi le venticinque soluzioni che sono state selezionate poi vengono messe in contatto in qualche maniera nel senso che o si organizza una call o se addirittura si è vicini geograficamente si riesce anche a fare in presenza comunque si si mette in contatto col challenge giver e che dà un supporto delle linee di indirezzamento insomma cerca di chiaramente di di seguire poi lo sviluppo del prodotto e semplicemente questo comunque dal stage uno appunto poi c'è questa comunicazione tra chi sta sviluppando l'idea e chi invece la richiesta questa slide in realtà sono sempre le stesse stesse fasi semplicemente insomma con una descrizione un po' più dettagliata perché questo perché poi dopo vi girerò insomma le slide vi gireremo in modo tale da avere a disposizione e come potete vedere feasibility study demonstration e una cosa che mi sono dimenticato da prima nello stage 3 particolarità perché arriva allo stage 3 è il fatto che il 50% del budget quindi di quei 17 mila euro deve essere speso in voucher per esternalizzazioni quindi andare insomma a usufruire di servizi di consulenti o aziende terze provo a spiegarvi adesso quindi visti le tre insomma i tre stage e volevo andare a vedere come si passa da uno stage all'altro quindi come funziona tutto il processo di valutazione e selezione da dall'uno al 2 al 3 quasi guardiamo dalla fase di applicazione allo stage numero 1 come si procede al momento e siamo in questa fase ovviamente dove le candidature sono aperte poi vedremo anche la piattaforma come funziona al termine del 22 marzo ci sarà un primo check di idoneità per guardare banalmente alcuni casi di conflitto di interessi piuttosto che altre condizioni e banalmente una delle condizioni ad esempio è che l'azienda non sia stata fondata dopo l'apertura dell'open call quindi dopo il 10 gennaio 2023 questo ovviamente per evitare insomma che aziende si formino solo per questo motivo e sembra banale però è successo anche questo insomma quindi ci sono tutta una serie di condizioni arrivati insomma per chi passa qui insomma tutte le soluzioni che riescono a passare questo check e ciascuna soluzione riceve tre valutazioni da tre valutatori indipendenti esterni è una valutazione scritta che poi viene sempre consegnata quindi da questa valutazione ovviamente si va a fare una diciamo classifica e i primi 36 di questa classifica poi vengono invitati al jury day come funziona il jury day io adesso lo definisco sempre esame scritto esame orale nel senso che prima c'è la valutazione scritta il jury day è una giornata in realtà 20 minuti in cui viene richiesto ai partecipanti un video di 10 minuti per andare a presentare insomma la soluzione e che poi serve anche per chi passa perché questo video viene sempre poi solitamente condiviso con chi ha lanciato la sfida e un 10 minuti insomma di sessione di q&a di qualche domanda per andare a avere qualche dettaglio in più e quindi questo appunto in dal vivo e da da quei 36 attraverso questa diciamo jury day quindi una nuova classifica di valutazioni si va poi a nominare i 25 progetti fino a 25 progetti che arrivano in stage 1 e vanno a firmare appunto il sub grant agreement che è il contratto insomma tra amulet e la piccola media impresa una tempistica un'ipotesi di tempistica quella che la che vedete sotto e si dal 22 marzo si parte con la chiusura della open call e attraverso tutti questi passaggi si dovrebbe iniziare appunto il primo luglio 2023 con la stage 1 quindi proprio con la fase operativa eh da parte delle piccole e medie imprese dopo le come come si passa qual è insomma il passaggio dallo stage 1 allo stage 3 lo vediamo in questa in questa slide in realtà è molto semplice dallo stage 1 eh ciascuna dei feasibility study con in ciascuno dei documenti prodotti riceverà due diverse tipologie di valutazione una valutazione sulla lato tecnico diciamo innovativo una valutazione sul lato economico di business e attraverso questa valutazione poi si va appunto a eh selezionare sette progetti attualmente proprio un po' un dettaglio è in fase stiamo discutendo il fatto che eh quei sette progetti eh debbano rispondere a sette diverse sfide per evitare ad esempio che tra questi sette progetti finali due o tre rispondino alla stessa sfida quindi insomma questo in realtà non è ancora stato deciso insomma stiamo discutendo e ultimo come vi dicevo dallo stage 2 che è la fase di dimostrazione si passa allo stage 3 a fronte invece come il fatto di aver fatto i compiti a casa e quindi di aver rispettato tutte le scadenze tutti i milestone eh che si sono prefigurati e ok perfetto quindi questo è un po' il processo all'interno di tutta diciamo il programma di amulet e qua invece eh volevo solo farvi vedere presentarvi un po' come qual è il processo per la partecipazione per valutare insomma da parte vostra si può essere interessante effettivamente candidare un'idea un progetto una soluzione e è una mia ipotesi anche banale però come come procedere per la candidatura diciamo che il primo passaggio fondamentale ovviamente è quello di andare a consultare la le sfide industriali e dopo vi ho messo il link perché poi mandandovi le slide così potete avere insomma comodo e il collegamento vi ho riportato uno screenshot in realtà e di come sono fatte queste sfide in realtà non sono nulla di eh diciamo estremamente complicato sono delle sfide che stanno in una una descrizione di una sfida sta in una paginetta normale di un pdf quindi diciamo che a questo livello comunque la descrizione delle sfide è abbastanza alta non si va non si entra molto nei dettagli dove invece si entra una volta che si va ne si passa allo stage uno e quindi il primo ovviamente il passaggio è quello di consultare le sfide il secondo passaggio è come vi dicevo prima è obbligatorio partecipare in micro consorzi di due o tre imprese qui si prefigurano insomma diverse soluzioni ovviamente o già insomma l'impresa ha già una sua rete di collaboratori di aziende eh con cui collabora in questo caso insomma meglio così non c'è bisogno di andare a trovare degli esterni e ovviamente anche i tecnopoli insomma e nel cluster mac sul territorio l'idea è quella di insomma riuscire a facilitare poi la comunicazione ove amulet insomma mette a disposizione un altro strumento che può essere più o meno utile insomma a seconda dell'interesse che è appunto questi eventi di matchmaking cosa sono praticamente abbiamo abbiamo una piattaforma dedicata solo per il progetto amulet proprio e che poi vedete insomma poi magari andiamo a vedere all'interno della piattaforma è possibile andare a vedere chi sono gli altri partecipanti che hanno si sono registrati hanno manifestato interesse a partecipare a una più sfide e eventualmente insomma prendere i contatti e prendere i contatti per insomma procedere con la candidatura insieme e qui da un lato c'è la piattaforma che è sempre disponibile sempre lì online e si può consultare dall'altra invece ci sono proprio degli eventi di matchmaking in cui diciamo sono delle sessioni di pitching in cui piccole e medie imprese possono o presentare le proprie competenze e vedere se qualcuno sta cercando quelle competenze oppure viceversa presentare insomma un'idea una soluzione in maniera molto molto alta del progetto che intendono sottomettere e per trovare il secondo o il terzo partner il prossimo matchmaking poi giusto come vedete insomma il 6 marzo che insomma è quello che il giorno è però insomma la mattina alle 10 e mezzogiorno quindi l'idea è una volta a qua scusate uno screenshot è che in realtà non è molto significativo ma la cosa che volevo mostrare principalmente il fatto che in questa icona qua con insomma le persone lì è possibile andare magari facciamo direttamente in online insomma entro con il browser è possibile andare a vedere quali sono le altre gli altri partecipanti e prendere i vari contatti e l'ultimo punto che è perfetto dopo vi dico altre due cose sulla piattaforma e ovviamente a fronte di aver individuato una sfida di interesse e che può essere cioè di interesse a fronte di aver creato un mini consorzio quindi aver trovato una o due imprese che vogliono partecipare ovviamente l'ultimo passo poi è quello di andare effettivamente a scrivere quel progetto e sottoporre la candidatura come funziona la candidatura è tutta online su quel sito sul sito che vedete in slide quindi amulet 2 oc h 2020 funding box e dopo vediamo ho messo anche uno screenshot ma se ce la facciamo provo a mostrare direttamente sul sito e come è diciamo è strutturato il form di candidatura abbastanza semplice la deadline è il 22 marzo ovviamente quello che abbiamo detto alle ore 17 i progetti devono essere sempre ovviamente scritti in inglese perché è un progetto europeo quindi l'inglese diciamo che è la lingua ufficiale di tutte le comunicazioni e una cosa importante è possibile la multiple submission quindi candidare più idee qual è la regola che una però una piccola media impresa può ricevere un finanziamento da amulet solo una volta quindi per farvi un esempio eh perché è proprio successo in realtà con una un'impresa socia nostra socia eh ha candidato due soluzioni una con l'impresa A e un'altra con l'impresa B e C e entrambe le proposte sono passate quindi sono approdate in stage uno ovviamente eh l'azienda ha dovuto scegliere quale dei due progetti portare avanti considerando che nel momento in cui ha scelto mettiamo ha scelto la prima insomma con la con l'azienda A il progetto con l'azienda B e C non può proseguire anche con eh B e C e basta perché ovviamente in valutazione eh il team di insomma la valutazione prende in considerazione il fatto che ci siano tre imprese che probabilmente si vanno a completare compensare con le diverse fasi di produzione o di competenze cadendo una cade anche insomma tutto il progetto e mh dopo vabbè eh tutte le parti obbligatorie devono essere riempite insomma quello eh sembra banale e e ci deve essere assenza di conflitto di interessi qua giusto per insomma competenza e se qualcuno sono se ci sono dei soci del cluster ma comunque non è non non vale come insomma situazione fatti specie di conflitto di interessi e sì Marco vedo una mano alzata vedo che ti sei scuola del 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 tu perdonami vedo che sei smutato ma non sento almeno io no non ti sentiamo non ti sentiamo purtroppo prova a scrivere in chat se una cosa eh purtroppo Marco ti fermo perché vedo che stai muovendo la bocca ma non sentiamo niente no neanche adesso se vuoi provare a magari ad entrare sotto con il computer funziona così no si rientra si esce si rientra adesso mi sentite adesso sì ah ecco allora buonasera a tutti non volevo interrompere a dire il vero mi ero semplicemente prenotato perché vedevo che la presentazione era arrivata alla fine comunque già che mi avete dato la parola a questo punto faccio la domanda sì allora io mi presento io sono un ricercatore dell'università degli studi di udine e volevo appunto fare questa domanda qui perché abbiamo io sono in contatto mi occupo di meccanica agraria quindi sono in contatto con aziende che si occupano anche di attrezzi agricoli motori per l'agricoltura eccetera eccetera allora abbiamo individuato una una sfida un challenge che potrebbe essere l'interesse e ho le due aziende che sarebbero pronte a entrare nel mini consorzio quindi la domanda è l'università degli studi di udine in particolare il mio il gruppo di ricerca che presento può esso stesso entrare come partner in questo mini consorzio oppure come dire giro tutta la documentazione alle due aziende con le quali sono in contatto e lascio che facciano che facciano loro e guarda ti rispondo facilmente perché in realtà solo le piccole e medie imprese dal punto di vista giuridico possono partecipare al bando insomma definizione proprio commissione europea insomma ci sono guarda pensando ci sono due possibili soluzioni da un lato appunto il fatto di passare tutte le carte insomma se sei in buoni rapporti ovviamente all'impresa dall'altro che dopo devo indagare magari eventualmente un po più a fondo il fatto che un centro di ricerca insomma università eccetera può partecipare ma come si dice esternalizzazione cioè come fornitore terzo e quindi non entra a fare parte del partenariato diventa un po' un fornitore poi quando eventualmente l'impresa va a ricevere il grant ovviamente un po' chiudo un po' le virgolette il fatto che proprio poi l'impresa scriva in fase di candidatura che nello stage 1 che magari lo studio di fattibilità prevede di dare il 30% del budget all'università di Udine e non so poi come il valutatore la prenda ecco quella non è idea perché ovviamente il valutatore è indipendente e solitamente è un po' visto di malocchio tra virgolette questa esternalizzazione e ti spiego anche perché proprio in due minuti perché l'agenzia europea è l'ISMEA che è proprio l'agenzia dedicata alla competitività delle piccole e medie imprese quindi anche loro insomma solitamente mettono un po' un faro sul fatto che i finanziamenti finiscano poi alle imprese e non so se c'è più o meno risposto però posso anche informarmi insomma un po' più nel dettaglio eventualmente sull'esternalizzazione sì mi interessa molto perché naturalmente visto che il bando è in inglese e la competenza ce l'abbiamo noi l'azienda si appoggia a noi abbastanza le aziende si appoggiano a noi abbastanza in maniera abbastanza considerevole io come dire sono anche disposto a mettermi qua di buona lena scrivere l'application per queste due aziende però naturalmente cioè se lo faccio ci deve essere anche un ritorno nel senso che non ci posso mettere tutto e ritorno zero quindi mi stavo chiedendo se questo fosse il bando giusto per partecipare appunto per far partecipare queste aziende perché ripeto avremo le competenze le idee e le aziende ce le abbiamo tutte allora sì vorrei fare il lavoro per gratis ecco così per nulla no no quello è chiaro e guarda dopo in realtà nelle mail c'è anche insomma la mia mail scusa nelle slide poi c'è anche la mia mail quindi insomma poi magari si è proprio lì devo un attimo sentire internamente andare a vedere il partner di riferimento nostro che segue tutti questi aspetti legali insomma un po come come la vede questo però provo a darti magari una risposta un po più dettagliata nei prossimi giorni ecco va bene grazie mille scusate l'interruzione finora è tutto interessante comunque ah no perfetto perfetto grazie mille per la per la domanda e a guarda intanto nel frattempo ma questo è giusto uno scrish ah infatti ho visto che c'è anche Fabrizio che ha scritto e in questi potessi per entrare anche il settore di pittura e scusate sto leggendo in chat c'era una domanda appunto da parte di Fabrizio e sì nel senso che uno dei settori che è proprio preso in considerazione nel progetto è il settore building la domanda cioè non saprei darti invece la risposta sul fatto di quali sfide sono state lanciate all'interno di questo settore quindi guardo provo a girarti al volo se ce la faccio la lista delle sfide giusto così in chat per averla molto comoda se la trovo adesso ovviamente non la questa qua eccola così insomma diciamo che l'avete anche tutti ed è la parte più importante e ve lo mandate in chat e ah Fabrizio adesso ti vedo anche in faccia ti chiederei di dare un'occhiata all'interno del settore building quali sono le sfide che sono state lanciate perché quello su due piedi purtroppo non mi ricordo però potrebbe esserci anche insomma tutto questo ambito di sostenibilità ambientale risparmio energetico eccetera perché inizialmente è partito come progetto molto lanciato sul lightweight quindi sull'alleggerimento strutturale che ovviamente in settori come l'automotive o l'aerospazio è molto intuitivo e nel momento in cui è stato inserito anche il settore building energia diciamo che siamo passati verso più un progetto sui materiali avanzati quindi potrebbe anche esserci qualche sfida lanciata su questi temi ok quindi come vi posso aggiornare e procedere in questo senso? guarda ti chiedo ti ho girato non so se hai visto il link nella chat che porta al pdf nel pdf trovi tutte e 36 le sfide e all'interno di queste sono tutte classificate penso per settore puoi andare direttamente al building e controllare se ci sono state lanciate sfide in questo ambito questo diciamo che è il primo passaggio per vedere se può essere anche interessante già di interesse vostro perfetto non so Bruno se è una mano alzata quella si è una mano alzata perché non sono capace di metterla a mano non trovo la mano scusa allora no chiedevo una cosa siccome si tratta di progetti di cui io sono consulente aziendale fondamentalmente per aziende minerarie per un'azienda minerarie che opera nel settore dei prodotti leggeri e appunto ha aperti diversi progetti in varie forme e anche di finanziamento di dottorati di ricerca con un imore mi sono in amore ecco il fatto di siamo una cioè la società mia cliente è una società di una piccola media impresa così come altre due o tre che ho sotto mano con cui sto cercando di mettere insieme un accrocchio per affrontare questo questo discorso ecco la piccola ritornando al fatto del supporto dell'università o di istituti di ricerca quant'altro la piccola media impresa abbastanza difficile che non possa avvalersi certo che deve essere lei a prendere i soldi ho capito il concetto però se non si avvale di un strumento di ricerca esterno quale può essere il supporto di una un dipartimento di università di un dottorato di ricerca di quant'altro ho visto che non era ben visto il discorso ecco è un accrocchio che devo capire se questo è lo strumento che io posso adesso andare a proporre a vedere per inquadrare alcuni uno dei progetti che potrebbero rientrare sicuramente nel discorso building che è un progetto importante che abbiamo di prodotti da mettere in impasti ceramici che diminuiscano parecchio il consumo energetico in quanto sono prodotti vulcanici abbiamo già uno studio avanti l'abbiamo iniziato con questo dottorato di ricerca l'idea era come sono consulente di un centro di ricerca e studi non di una finanziaria agevolata ma centro di ricerca accreditato al MIUR di fare un possibile recupero di alcuni soldi spesi specialmente dottorato universitario con un progetto 4.0 credito di imposta che però nei due anni scorsi è calato questo interesse perché si parlava del 40 e del 20 quest'anno il 10% di recupero quindi sul credito di imposta sta diventando abbastanza poco interessante a meno che il governo decida di rimetterci mano non ha potuto farlo non ha avuto tempo e quindi sto valutando qualche altra opportunità ecco tutto non so se è stato chiaro sì 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 no guarda in realtà sarò un po' ripetitivo la risposta che ho detto no infatti perché ti dico non so se è in quest'ottica lo strumento più adatto questo progetto perché l'idea appunto è che venendo a diciamo essendo un progetto che nasce dall'Eismea quindi da questa agenzia per la competitività delle piccole e medie imprese hanno molto ho visto anche nella prima open call diciamo il faro puntato sul fatto che siano effettivamente piccole e medie imprese che poi vanno a ricevere i soldi e andare a esternalizzare a come si dice insomma adesso mi viene più il nome il subgrant mi viene ma non è non è esatto comunque andare a esternalizzare poi parte delle attività a un centro di ricerca è possibile sempre quella come si dice incognita sul come in fase di valutazione viene preso poi dal valutatore perché poi in realtà è un po' infatti lo dico anche subito è un po' parte del gioco il fatto di ricevere valutazioni delle più svariate nel senso che essendo valutatori diciamo a livello europeo ovviamente noi sappiamo in quanto cluster che chi portiamo al tavolo dei valutatori che insomma sono tutti che comunque vengono valutati sempre sul curriculum vita però insomma sapete anche voi che diversi punti di vista possono spesso sorgere e anche la descrizione in inglese insomma magari c'è qualche qualche problema in più però non so se ti ho risposto Bruno io guarda provo a indagare un po' sul fatto se ci sono dei limiti dopo vi giro anche anzi ve lo faccio subito in sono tutti sono tutti insomma come si chiama link che trovate poi sui vari trovate sempre sul sito vi ho girato quelle che sono la guida per gli applicanti insomma ci sono tutte le condizioni in modo tale che magari se non lo ricordo in memoria insomma lì solitamente un po' alla risposta a tutto e comunque sono dopo come dicevo appunto insomma posso posso cercare di dare una mano in qualsiasi modo insomma sono a mia disposizione e volevo solo farvi vedere guarda giusto colgo così insomma arrivo alla conclusione su come è fatto invece il forum di candidatura e come vi dicevo è tutto online vedete sempre le slide giusto? siete sempre ok e sono i nove elementi i nove capitoli che vanno a comporre forma di candidatura e ovviamente si va la valutazione sarà dall'elemento dal capitolo numero 2 fino al 5 quindi progetto eccellenza impatto implementazione a destra trovate proprio uno screenshot di come è fatto insomma il form ha delle varie campi da compilare con sempre un limite massimo di caratteri quindi insomma abbastanza ovviamente non è super lean come si dice ma è abbastanza agevole e particolarità particolarità ma io non particolarità però importante si può salvare cosa che è non banale e quindi non bisogna tenersi reward diciamo da parte per compilare tutto in fase di sottomissione e un'altra cosa che tengo sempre a dire il fatto che si debba creare un micro consorzio è solo una l'impresa che deve andare effettivamente a schiazzare il pulsante per andare a fare submission perché si candiderà anche come coordinatore del micro consorzio e sarà lei inserire i dati insomma delle altre imprese quindi c'è o questa possibilità o dall'altra come potete vedere nella slide in alto a sinistra dove c'è quel pulsante aggiungi un contributor un contributore e in quel caso ovviamente si possono andare a aggiungere diversi utenti alla piattaforma e andare a scrivere a quattro mani il progetto perso il mouse questo quindi giusto per avere insomma una lista insomma dei to do per riuscire ad arrivare insomma alla submission finale questi sono un po' i tre passaggi principali ritrovare il fatto che ci sia una sfida industriale che sia effettivamente adatta a quello che si propone andare a cercare un partner un collaboratore altra cosa che in realtà non ho scritto è possibile ovviamente non è obbligatorio andare a fare un partenariato internazionale quindi trovare una piccola media impresa estera è fortemente raccomandato ovviamente nelle guide troverete che c'è uno 0,5 un 1 punto in più in fase di valutazione scritta per quei consorsi che presentano cross border con elaborazioni tra paesi diversi e poi abbiamo visto che ovviamente essendo un progetto finanziato della commissione europea la commissione vuole vedere questa tipologia di collaborazione internazionale quindi insomma anche in fase di valutazione soprattutto in fase di jury day quindi di confronto diretto diciamo che il fatto di avere un partner internazionale è un bel vantaggio detto questo in realtà nella prima open call sono passate anche due consorse di due italiane consorse di due francesi insomma le mononazioni comunque sono riuscite a passare è solo appunto un po' una quella quella ciliegina sulla torta che a volte può essere insomma molto utile e prima di parlarvi in realtà dei supporti finanziari sono molto veloci in realtà semplicemente per dire a tutti che c'è questa possibilità il fatto di riuscire soprattutto per il mondo di alleggerimento strutturale di avere insomma da una parte materiale formativo dall'altra coaching come funziona è tutto disponibile su questa ennesima piattaforma ci sono mille piattaforme in questo progetto che è Elka le piattaforme che vedete qua è Elka all'interno della piattaforma che è una sorta di LinkedIn come potete vedere dalle immagini è possibile andare a soffrire tutto il materiale formativo ma la cosa secondo me più interessante per le piccole e medie imprese è il fatto di avere a titolo completamente gratuito la disponibilità di un coach un esperto che può essere in diversi topic poi li vediamo il quale mette a disposizione un po' le sue conoscenze il suo tempo per andare a sviluppare quello che è un prodotto un processo anche solo un confronto e in Italia in realtà noi in quanto Clustermax siamo uniti lavoriamo su questo progetto insieme all'Università di Bologna che è l'interparty del progetto quindi soprattutto per le parti tecniche abbiamo insomma ricercatori professori dell'Università di Bologna che possono mettere a disposizione un po' del loro tempo e un po' del loro sapere ma anche non per forza rimanendo in Italia insomma c'è tutta una lista di coach a livello europeo che mette a disposizione come vi dicevo il loro tempo e può essere interessante ovviamente anche per far un po' un confronto eventualmente per progetti futuri questi sono veramente breve in maniera molto sporadica quali sono i topic trattati la cosa interessante è che all'interno di quella lista di coach ciascun coach ovviamente è indicato in quali ambiti esperti non sono tutti esperti di tutto ovviamente e quindi sono sempre tre materiali come vi dicevo i quattro settori e poi ci sono tutte queste fasi di tecnologiche di insomma di produzione quindi si parte dal material supply fino al riciclo del materiale dall'altra parte c'è anche disponibilità di avere un coaching più diciamo non tecnico ma più diciamo di management piuttosto di diritto come potete vedere la gestione dei diritti di proprietà intellettuale comunque insomma tutta una serie di temi con cui si può andare a confrontare proprio questo in realtà è proprio l'ultima slide per farvi vedere insomma come vi dicevo prima quali sono i vari step ufficialmente i step che per andare a sottoporre la candidatura e non so se avete provato a volare chiedo perdono ancora per essere entrato un po' in ritardo ma dopo non era colpa mia e vi chiedo se avete altre domande curiosità dubbi altrimenti nel frattempo che ci pensate spendo veramente due minuti ma per lanciare un'altra opportunità molto ah qua scusate poi dopo vi manderemo le slide comunque insomma giusto per dire che in quanto ClusterMech per le aziende insomma del territorio cerchiamo di dare un po' una mano in fase di submission vi spendo veramente due minuti per presentarvi un progetto molto simile che si chiama Jamstone di cui siamo appena iniziato quindi siamo sempre partner di questo sempre progetto europeo e che in maniera molto molto similare va a offrire diciamo finanziamenti cosiddetti supporto finanziario alle PMI in questo caso non parliamo più di materiali avanzati o alleggerimento ma parliamo di green manufacturing quindi in realtà partiranno a settembre quindi un anticipo ma giusto così per mettere insomma un po' la pulce nell'orecchio ovviamente poi procederemo con i dovuti tempi alla comunicazione ufficiale però diciamo che all'interno del green manufacturing questi saranno un po' le opportunità che andremo a portare insomma sul territorio su tre diciamo filoni anzi piloni diciamo uno è il primo explore quindi sull'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese in ambito green manufacturing vedete ci saranno dei voucher fino a 3000 euro per la partecipazione a fiere internazionali sempre a sfondo insomma di manifattura sostenibile e come potete vedere insomma saranno 40 progetti finanziati in questo caso in maniera individuale quindi la singola impresa un secondo filone è train quindi la formazione con voucher fino a 2000 euro per andare a formare i dipendenti su tematiche sempre di sostenibilità in ambito manifatturiero e andremo a finanziare 45 progetti in Europa e poi c'è tutto il filone insomma un po' più corposo finale che è quello di innovazione che è diviso in due innovazione e implementazione dell'innovazione e come potete vedere in questo caso si aumenta molto il finanziamento quindi fino a 60.000 euro e 40 per implementazione una durata un po' più sostanziale quindi 6 mesi numero minore di progetti finanziati ma l'idea insomma di andare non più avere un voucher ma avere un programma un processo insomma un percorso di 6 mesi da fare insieme per o la creazione e il supporto di un nuovo tecnologia un nuovo processo oppure dall'altra parte l'implementazione all'interno di una piccola media impresa infatti come potete vedere in implementazione c'è proprio la partecipazione collaborativa bisogna partecipare in due adesso vabbè giusto ve lo anticipo così cosa stiamo facendo stiamo portando avanti questa documentazione sul green manufacturing che è un documento chiamato strategy roadmap che poi vogliamo portare poi in commissione europea soprattutto alle agenzie di riferimento per le piccole e medie imprese per andare a definire cos'è il green manufacturing quali sono insomma i benefici le sfide e i potenziali step da prendere in ambito in quest'ambito e vi manderò insomma all'interno delle slide giusto così per vostra conoscenza poi dopo se avete interesse e volontà di rispondere a questo breve sondaggio noi saremo molto felici cosa stiamo facendo adesso noi abbiamo creato una prima versione in quanto cluster organization che è proprio diciamo un po' un soggetto identificato dalla commissione europea come soggetto aggregatore abbiamo fatto una prima versione ora l'idea nostra è quella di andarla a migliorare prendendo in considerazione quelle che sono poi tutte le esigenze problematiche e punti di vista delle piccole e medie imprese che effettivamente poi sono chiamate anche dalla commissione a fare questa transizione verde cosiddetta e lì dopo quando vi manderò le slide c'è appunto il link per andare a partecipare è un un sondaggio di una decina di minuti nulla di eccessivamente impegnativo però insomma se si può fare cioè noi stiamo cercando di promuovere in modo tale di avere più input possibili per poi portare qualcosa un documento che abbia effettivamente un po' una base solida ho volato anche su questo e se per la mail se per quella e gli chiedo allora se niente ho cercato di presentarvi un po' tutto in maniera spero abbastanza chiara vi chiedo se avete qualche domanda qualche curiosità se vi anche cioè in realtà la presentazione è finita vi chiedete anche qualche feedback se uno strumento del genere ritorno su Amulet può essere di interesse soprattutto per piccole e medie imprese o se pensate insomma che sia un po' troppo lontano sia difficile partecipazione eccetera se avete insomma qualche commento altrimenti possiamo anche concludere direi la riunione con indirizzo email questo qua prego mi sembra che non ci siano domande domande esatto che sono molto contento vuol dire ok tutto chiaro non è chiaro niente esattamente comunque allora come vi ha anticipato Nicolò vi manderemo le slide poi sulla nostra news anche sulla news che vi è arrivata per questo webinar ci sono tutte le informazioni necessarie però ripeto vi invieremo le slide siamo a disposizione Nicolò è a disposizione il cluster Mac è a disposizione per qualsiasi vostra domanda non so se il Tecnopolo di Rimini e Giorgia abbia ristabilito l'audio altrimenti vi saluto e vi ringrazio ringrazio Nicolò ringrazio voi e ringrazio Nicolò per l'attenzione per quello che ci ha detto e per le informazioni e quindi vi ringrazio a nome del Tecnopolo di Forlicesena del Tecnopolo di Rimini e del Tecnopolo di Ravenna e spero di avere modo di rivedervi nelle prossime occasioni scusatemi per la telecamera ma sono in una postazione in cui non è presente mi dispiace quindi avremo modo di rivederci perfetto guarda vi ringrazio io per l'organizzazione di tutto insomma speriamo di di rivederci presto e grazie ancora insomma buona serata a tutti allora buona serata buona serata grazie a tutti